Branko è un astrologo esperto che si dedica all'interpretazione dei segni zodiacali e delle posizioni planetarie. Con una lunga esperienza nell'ambito astrologico, Branko offre consigli precisi e personalizzati per aiutare le persone a capire meglio se stesse e il loro posto nel mondo. Di seguito trovate tutte le sue previsioni settimana dal 15 al 21 luglio. Oroscopo dell'Ariete. Ehi Ariete, sembra che la tua fortuna sia un po' capricciosa ultimamente. Anche se l'amore potrebbe riservarti delle sorprese inaspettate, concentrati sul lavoro e sulla salute per mantenere tutto sotto controllo. Non dimenticare di equilibrare le tue energie. Amore. 3. Lavoro. Lavoro. 4. Fortuna. 2. Finanze. 3. Energia. 4. Oroscopo del Toro. Toro, sembra che la fortuna non sia proprio dalla tua parte ultimamente, ma non disperare. In amore ci sono un po' di alti e bassi. Potresti incontrare qualche intoppo inaspettato. La carriera richiede più impegno del solito, mentre le finanze mostrano segni di miglioramento graduale. Mantieni alta l'energia perché ti servirà per affrontare le sfide quotidiane. Amore. 3. Lavoro. 2. Fortuna. 1. Finanze. 4. Energia. 3. Oroscopo dei gemelli. Ehi, gemelli, la tua adattabilità è alle stelle, ma fai attenzione alla salute. Le finanze potrebbero riservarti qualche sorpresa positiva, mentre l'amore lascia un po' a desiderare. Sul lavoro ci sono alti e bassi, cerca di non perdere la calma. Comunicazione al top, sfruttala. Amore. 2. Lavoro. 3. Fortuna. 4. Finanze. 5. Energia. 3. Oroscopo del cancro. Ciao, cancro. La tua intuizione è alle stelle e potrebbe portarti a una svolta inaspettata. Tuttavia, le tue finanze potrebbero essere un po' traballanti, meglio fare attenzione agli acquisti impulsivi. In amore, la situazione è altalenante, cerca di non prendere decisioni affrettate. Sul lavoro ci sono sfide ma anche opportunità nascoste da cogliere al volo. Amore. 3. Lavoro. 4. Fortuna. 2. Finanze. 1. Energia. 5. Oroscopo del leone. Leone. Sei in un momento pieno di alti e bassi. La tua energia sembra essere alle stelle, ma le finanze potrebbero non brillare altrettanto. Attenzione all'emotività. Potrebbe giocarti qualche brutto scherzo. L'amore è una montagna russa, mentre sul lavoro ci sono delle sfide che ti attendono dietro l'angolo. Amore. 3. Lavoro. 2. Fortuna. 4. Finanze. 1. Energia. 5. Oroscopo della Vergine. Ciao, Vergine. La tua compatibilità con gli altri è in crescita, ma fai attenzione alle finanze. L'adattabilità sembra un po' sfuggente e la qualità delle tue scelte potrebbe risentirne. In amore potresti vivere alti e bassi significativi. La fortuna non è proprio dalla tua parte ora, ma non disperare. C'è sempre una luce alla fine del tunnel. Amore. 3. Lavoro. 4. Fortuna. 2. Finanze. 1. Energia. 3. Oroscopo della bilancia. Bilancia. Sembra che tu stia attraversando un periodo di alti e bassi. Potresti sentire una certa difficoltà nell'adattarti a situazioni nuove, e la tua fortuna non è proprio dalla tua parte. Tuttavia, il tuo lato spirituale potrebbe offrirti qualche conforto inaspettato. Le finanze potrebbero richiedere più attenzione del solito, quindi tieni d'occhio le spese. Amore. 3. Lavoro. 2. Fortuna. 1. Finanze. 2. Energia. 4. Oroscopo dello Scorpione. Ciao Scorpione. Preparati a un periodo di alti e bassi. La tua energia è alle stelle, mentre le finanze potrebbero riservarti qualche sorpresa non proprio piacevole. L'amore si presenta con molte sorprese positive, ma il lavoro richiede la tua attenzione per superare alcune difficoltà. Amore. 4. Lavoro. 3. Fortuna. 2. Finanze. 1. Energia. 5. Oroscopo del Sagittario. Sagittario, sembra che la tua energia sia alle stelle. Tuttavia, potrebbero esserci delle turbolenze in amore e finanze. La tua intuizione ti guiderà bene nelle scelte di carriera, ma fai attenzione alla salute. Un pizzico di creatività renderà le tue giornate più luminose. Amore. 2. Lavoro. 4. Fortuna. 3. Finanze. 1. Energia. 5. Oroscopo del Capricorno. Capricorno. La tua settimana sarà un mix di alti e bassi. L'amore potrebbe riservarti qualche sorpresa piacevole, ma non aspettarti miracoli sul fronte lavorativo. La fortuna è altalenante, quindi meglio non azzardare troppo con il portafoglio. Energia in calo, forse è tempo di rallentare. Amore. 4. Lavoro. 2. Fortuna. 3. Finanze. 1. Energia. 2. Oroscopo dell'acquario. Caro acquario, la tua fortuna sta per oscillare come un pendolo. In amore, potresti trovare delle sorprese piacevoli o delusioni cocenti. Nel lavoro, alcune sfide ti metteranno alla prova ma mostrano anche opportunità nascoste. Le tue finanze potrebbero richiedere una gestione attenta e la tua energia sarà alti e bassi. Tieni duro e sfrutta i momenti di intuizione. Amore. 3. Lavoro. 4. Fortuna. 2. Finanze. 3. Energia. 1. Oroscopo dei pesci. Pesci, sembra che l'universo ti stia inviando segnali contrastanti. L'amore è un po' turbolento e potresti sentirti meno fortunato del solito. Tuttavia, la tua creatività brilla come mai prima d'ora e hai una buona intuizione che potrebbe guidarti in situazioni complicate. Attenzione alla salute. Prenditi cura di te stesso. La carriera richiede ancora qualche aggiustamento, ma le finanze sono stabili. Amore. 2. Lavoro. 3. Fortuna. 1. Finanze. 4. Energia. 3.